Sei incontentabile però, l'ho fatta gialla e la volevi rossa, te l'ho fatta rossa e adesso la vuoi gialla, dimmi che cosa vuoi Dimmi che cosa vuoi Non è semplice Dimmi che cosa vuoi Col piano di diffusione del vaccino, come siamo messi? Vuoi che pure questa volta facciamo le cose a Demento Lacanis, una cazzegana E Ceno stai tranquillo, stiamo mettendo a punto un protocollo ineccepibile Ma non ci accompagni Comitato, possiamo riprendere RT 2 Vada lì, la Marisa Laurito sta facendo la mossa RT 1 e 3 Scusa, con chi giochi tu? Giocherebbi Cormolise Giocherebbi 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 Giocherebbi